Vomitevole è chi, come la Francia, continua a sfruttare l'Africa stampando moneta per 14 nazioni africane sulle quali applica il signoraggio, facendo lavorare bambini nelle miniere, estraendo materie prime, come accade in Niger, dove la Francia estrae il 30% dell'uranio che gli serve a far camminare le centrali nucleari e il 90% dei nigerini vive senza elettricità. Non ci venire a fare leccioni, Macron, perché l'Africa scappa da voi, e la soluzione non è spostare gli africani in Europa, è liberare l'Africa da certi europei, non accettiamo leccioni. Hello and welcome to the World Wide Post. Dosti, Niger se liekar na, badei updates nikal kar a rèi è che, India ki, Ministry of External Affairs nè na, che, saaf saaf, saaf, si dhe torpor, Indian citizens coo che dìa è, che, agar coi kàm, baut zi adha important nai è, na, to foreign torpor, Niger coo dè, c'è anche il tempo, non c'è, non c'è, non c'è, ECOVASC Grazie a tutti. a aggiungerzi video a continuo perché è molto connecated néigerna che c'è nel mio melliteri è in cui ha tagliato nel mio melliteri rulli laggiata a chiama ma l'argo ma il niger che presidente franzo 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 il nostro corruzione e qui la stampa italiana a dire, eh, visto che ha detto Macron, che siamo irresponsabili. Vergogna. Irresponsabili, Emmanuel Macron, sono quelli che hanno bombardato la Libia perché gli dava fastidio che l'Italia avesse un rapporto privilegiato in campo energetico con Gheddafi, esponendoci al caos migrazione nel quale ci troviamo. Cinici Emmanuel Macron sono i francesi che mandano la gendarmerie a rispedire indietro qualunque immigrato tenti di passare il confine a ventimiglia. Ma soprattutto, perché le cose vanno raccontate come si deve, vomitevole e chi come la Francia continua a sfruttare l'Africa stampando moneta per 14 nazioni africane sulle quali applica il signoraggio facendo lavorare bambini nelle miniere estraendo materie prime come accade in Niger dove la Francia estrae il 30% dell'uranio che gli serve a far camminare le centrali nucleari e il 90% dei nigerini vive senza elettricità. non ci venire a fare leccioni Macron perché l'Africa scappa da voi e la solucione non è spostare gli africani in Europa e liberare l'Africa da certi europei non accettiamo leccioni well Georgia Meloni già PM nai tì na tappi yè video è baut purani video è lèkini yè aïsà bata kari tì che bors yè phone se pahir a karna ba ki ta well come back to the point lèkini inno nè france co aina bata bata yè basically kia rai tì kia africa france jese dèși na mukt kara ya jaya africa ko aip alag identity milni chahiye lékin u.s of france joh african countries hai nè in ko aram se nè jane din ghe in kia baut bada influence yaha african dè dè france yaha eco vast dè signal dè ria hai tum aip forces ko niger me bhejo or bhejo niger ke president ko chud dhau और vaapas president ka rule establish karo or aap screen pa dè saktay kone kone country eco vas ka party lékin is burkina faso ghinia mali niger koo suspend kari dhya gya aya and aaj kè time pere yé suspended dèš anti france or pro russian bant chuk vladimir poutine suspended dèš military juntah kye sath bhot ach relationships s special yé s dè kanna france ho s karen 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 aapni air force s bombing kari dhe bus us s s aag france aapnay soldiers ko yaha nai hindi bula s chal yaha kye yaha yaha pere business chal raha na woi se or chal india kye ministry of external office ne yé baut achha qadam utha yaya aapnay citizens ko wapas bula nai nai ka to future me yé issue baut yi trending mene ho wala video informative dhe kye to international office kye i aap mire chanel ko subscribe ka sakte thank you so much and god bless you all